La politica comunque va avanti da un punto di vista burocratico, come colda rispetto al precedente consiglio, sappiamo che venerdì pomeriggio si completerà l'assetto con l'ingresso del primo dei non eletti. Sì, la surroga necessaria, come già aveva anticipato mia sorella, consigliere carotenuto Filomena, che aveva già annunciato nel precedente consiglio l'atto di dimissioni, che è stato protocollato il giorno dopo, per cui come per legge nei dieci giorni c'è stata già la convocazione del consiglio comunale e procederemo con la surroga e quindi con il subingresso di Antonio Pisani all'interno del consiglio. Subito di lì a poco ci saranno già convocazioni di altri consigli comunali con altre tematiche, proprio perché la macchina l'abbiamo avviata e dobbiamo essere cieli. I tempi sono stretti e come ho anticipato prima non abbiamo tanto tempo da perdere, soprattutto per l'economia di Casamiccio.